Noi abbiamo la tomba e abbiamo scelto di non mettere il vaso, quando è le ricorrenze che durano, le faccio la ciotola, quindi le metto il ferro e le cise, le metto la piantina, così la tomba non è vuota, però se le metto il ferro e le cise... No, no, grazie! Bello! Oh, bello! No, 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 no.